In realtà quello di cui parliamo è un problema di micro goccioline, quindi la mascherina copre, però gli occhi rimangono, specialmente chi non ha gli occhiali, sono un punto critico. Quindi ci è stato chiesto da ospedali attorno a noi delle protezioni diverse, che abbiamo subito cominciato a produrre gratuitamente per gli ospedali, e quindi questa è stata un'altra risposta che seguiva delle esigenze non interne, però siccome abbiamo uno spirito innovatore abbiamo cercato di capire qual è la sintesi della protezione. Per noi la sintesi della protezione e anche del design è questa, perché è un sistema che copre a 360 gradi gli occhi, le orecchie, la bocca ed è un pezzo molto facile da produrre.